e inizia il secondo game di questa best of 3 che vede due giocatori molto abili affrontarsi spona nell'angolo in alto a sinistra con il colore rosa, fa parte degli oscu clan Orange X che nel primo game ha cercato di lasciare con un doppio proxy gate e successivamente anche il core insomma un push molto molto aggressivo ma il suo avversario che spona nell'angolo in basso a destra con il colore giallo fa parte del team Next Gaming, Jill è riuscito a resistere a quel push in modo brillante e stava anche per contraattaccare con un pilone interno alla base del suo avversario di Exen vedremo cosa ci proporranno, per il momento nessuno ha mandato probe birichine come biglietto in giro per la mappa quindi vedremo, hanno messo subito il pilone al nono di supply quindi insomma per ora opening mi sembra abbastanza standard e anche abbastanza sincrona per quanto riguarda il game naturalmente io cercherò di seguire questi game nel contempo di seguire un po' tutto lo streaming vedremo se riusciremo ad avere una buona giornata per questa finale di terzo e quarto posto nessuno dei due team vuole cedere il passo giustamente mi sembra anche che questo potrà decretare il team che resterà sul podio eccetera, primo, secondo e terzo va subito a scautare con la sua probe al supply numero 15 gil per vedere se ci sono nuovamente proxy pilone di solito si scauta dietro la linea mineraria della natural per evitare insomma quelli più vicini poi ovviamente i proxy pilone un po' più lontani è difficile scautarli perché non si può comunque scautare tutta la mappa intanto la build come vi dicevo è abbastanza sincrona, leggero vantaggio per Exen mi sembra in questo momento che ha completato il suo secondo assimilatore con qualche secondo di anticipo 4 probe agli assimilatori dalla parte di Exen mentre gil evidentemente per una dimenticanza va oppure per una scelta va a piazzare soltanto ora 3 probe agli assimilatori vedremo insomma avrà un po' di gas in meno vedremo come utilizzare i minerali in più che avrà per ora 20 di supply per gil, 22 per Exen che in questo momento il giocatore Exen del Next Gaming sta bancando un po' di minerali vedremo cosa ci vuole fare è stato messo in produzione il gate sincrono per entrambi arriva il secondo gate per gil mentre Exen ha prodotto il primo zelota va a cercare di distruggere la probe di gil che era entrata nella base di Exen per scautare un po' la build avversaria non ha visto niente particolare ma ora ci sono 3 probe per ogni assimilatore per Exen quindi una build gas intensive da questo momento in poi il che potrebbe voler dire anche un fast blink stalker o magari un fast DT vedremo per cosa opterà infatti arriva subito il concilio del crepuscolo molto probabilmente questo prelude al santuario oscuro almeno io mi immagino un tanto gas e il concilio del crepuscolo così in anticipo o potrebbero essere anche un 4 gate in 2 blink vedremo insomma cosa opterà ma intanto entrambi hanno prodotto il nucleo della nave madre gil con un persecutore probabilmente andrà a pushare dall'altra parte invece abbiamo soltanto uno scout del core mothership core da parte di Exen per vedere se ci sono proxy pylon centri a chiudere sulla rampa da parte di Exen evidentemente si aspetta il push arriva il primo persecutore per Exen mentre dall'altra parte abbiamo un proxy pylon gil vorrà pushare con un probabilmente 3 gate e qualcosa altro infatti sta per arrivare il terzo gate mentre è completato il proxy pylon arriverà molto probabilmente un altro proxy pylon anche direttamente nell'alloggiamento della natural di Exen e intanto la probe cerca di entrare per scautare qualche cosa si perde la probe ma comunque ha piazzato il suo proxy pylon fa avanti e indietro con il nucleo della nave madre per distruggere lo zelota che è sulla rampa ma comunque c'è una centri che potrà tenere abbastanza a bada il suo avversario intanto arriva il distorsione temporale per gil e un forcefield piazzato abilmente da Exen chiude la rampa non avrà abbastanza energia per farne un altro forcefield e subito lo utilizza deve cercare di correre pari velocissimamente ha messo giù la costruzione della fabbrica robotica Exen per cercare di difendersi da questo push di persecutori dall'altra parte Gil ha messo il 3 gate robo anche per lui intanto arriva il sovraccarico fotonico da parte di Exen per difendersi da questo push devastante con 8 persecutori e il nucleo della nave madre è arrivato anche il santuario oscuro e ha dato ggg il perché evidentemente aveva visto il santuario oscuro e quindi non poteva più counterare e quindi grazie a tutti